Domenica 14 settembre 2008 Dicevano che non c'era più la station Dicevano che non c'era più il 909 E invece il live formo non c'è più il 909 Se lo fate un ragazzo di applauso E adesso signori, sbagliate i culli Per dire a questo momento DJ Vecine di tutta la stagione 2007-2008 Sulla mani, da destra, a sinistra E l'elettore italiano Luca Maurizio Sulla mani, da destra, a sinistra